un po' distrutto questo mamma mia Lasciami lo scooter Lascia che ti pusci perché non ti sei ancora accorto di me Da dove? 128 metri Ah da dietro G La montagna di O È vero che siamo in due versus squad? Figa Siamo in due gran coglioni siamo Guarda qua C'è stato dobbiamo scendere la lande comunque lande è il best place to go ieri scendete a lande quando abbiamo vinto? a me pare, pare altro gente, ti stanno pushando metto 835 no no bravo il giocatore più forte del mondo, lo vuoi capire? ma io stavo selezionando il pompa e c'avevo lo scudone gli ha sparato tipo uno o due colpi di scar è un cuore diverso, lo capisci o no? il psicologo è poco sciolto con lo scarpio io ho 10 bende, tu hai medikit nooo no no leo sei in mezzo devi farmi dare le bende, leo tu curate in tanto tu curate in tanto ok a terra bello ci ha provato a pushare questo scemo io ho bisogno di un po' ce n'è uno qua attento ahhh non riesco a luttare che cazzo è che mi hai sparato qua vicino? dalla casa io sono dalla casa è sopra di te ah ok ho visto aspetta non pushare, non pushare, non pushare, non pushare leo ahahah non chi va a fare ragazzi, sta arrivando gente io devo io devo riprendermi il mio cazzo di scarico e l'ho scelto da tre si si ma io ti dato due oh è qua da me spari con la R spari con la R ok ferito boom, bella bella arrivo io mi sono ubriacato, non capisco niente eh aspetta se riuscivi un universo di merda siamo finiti in una bella merda di situazione attenzione li stanno sparando da sopra e da te hai dietro di te? ho solo visto spari con la R e lì dentro mi sa eh ok uno morto sento che c'è la safe vieni in safe vieni in safe l'ho ucciso? eh devi correre in safe leo l'ho ucciso l'ho ucciso io però c'è la safe che arriva nooo perchè 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 l'abbiamo preso danno? ci sta eh che cazzo è successo? chi è che hai sparato? io ho sparato io ho sparato qualcosa ma ha fatto rumore del cecchino cos? però comunque c'è gente a nord ovest lassù sul montone si si lo sa ho visto mi hanno sparato vieni qua a destra facciamo un giro da destra e tu che sei così arrabbiato? si 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 il problema è che anche questo qua è forte sai arrivo io provo a sparare dov'è? non lo so però eeeh non so che cazzo fare perchè non ho capito ancora se sono insieme o no neanch'io questo è tranquillo qua la safe è lontanissima poi io inizierei già ad andare versi si si ma dentro noi siamo da questa parte qua ci sta eh? bastardo bastardo non mi fa buildare vedi dietro il micoso non riesco a capire dove cazzo sono l'altro è camperatissimo secondo me non sono insieme sono solo uno molto sono tutti uno sotto l'altro parli con lo scar uno è morto bella siiii bella 7 kill pelle pulite schiss it schissi reka io ho trovato sei cosa due o scudoni utili in questo momento dalla partita una mano io colpo di chi Se vuoi gli sparo i colpi di mitraglietta attorsi Arriva uno dal bunker Lasciatemi un'arma Poco distrutta questo Tutti a voi Sì, tu hai bisogno di un R Ho bisogno proprio di un'arma Ti troppo al pompa Sto arrivando e fuori Arriva, per inizio del tempo Ok, ucciso Figa, Luca Pro Game La coglione ha iniziato a spararmi da quando non ero ancora in casa Sì, ci siamo visti Faccio tre più forte a stare di qua C'è uno da me Un fenomeno, un fenomeno sui Stava one shot a trovare Troppa gente comunque oggi Con lì dietro, con le Puccele adesso, puccele adesso Ti giuro, capilino Mi butto giù Che ambigui figlio C'è qualcosa tu? Ah beh, mi sentono No, no, ci sono bende da dietro Qua da me Ok, ucciso Qua intanto è giallo Ci sta Ti ho dei passi qua dentro Ti giuro Sì, c'è un tipo Aspetta due secondi che arrivo Oh, sì, lo vedo Ok Boh Chia, poco poco distrutto E qua da me Non ci fa niente, poverino Ci sono scudini per te Vieni Qua da me Ok Ah, è vero che si mi spuose Oh, ho fatto tutti giù le cose Ripperoni Guarda come cadono Mi servono colpi di pompa Ne ho cinque Ci pushano Sì Mi droppi colpi di pompa Ok, bella Ok, una qua sotto Ok, bravo Questa qua ci sta Poco stilata C'era una doppietta Non ce l'ho da se prendo ben bene io Giù, è la più forte del mondo No, 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 no Non ha senso Non ha senso Ma non ha senso Ma Basta, basta Ti prego Hai bisogno Un botto Ma figlio Ma Ok, sentissimo Bello Fiii Questi qua Scarsissimi Ti giuro Ma Fai davvero Non ho mai visto Delle persone Scarsi come queste Quelli che hanno pushito me Non si sapevano giocare a Fortnite Grazie a tutti Grazie.